Buon pomeriggio. Come vedete non ero previsto qua, quindi in qualche modo cerchiamo di organizzarci. In realtà l'apertura era prevista da parte del presidente Marcello Pera che però non può essere presente, è fuori Roma e quindi cortesemente mi prega di portare quelli che si chiamano i saluti istituzionali, cioè i saluti da parte delle istituzioni. Come sapete la biblioteca è vigilata in qualche modo, tra virgolette, ma abbiamo un buon vigile, è vigilata da alcuni senatori che formano una commissione che ci guida in qualche modo e si lascia guidare fortunatamente. Ma più che i saluti istituzionali voglio portarvi i saluti dell'amministrazione. Io sono qui da cinque anni e quando sono arrivato cinque anni fa mi hanno parlato di due cose. Ah, questo statuto che da anni doveva essere pubblicato, quindi credo che siano dieci anni. Nella mia memoria lo statuto di Roma è qualcosa di presentissimo e desideravo ovviamente che la sua pubblicazione prima che io andassi via. La seconda cosa era la frequentazione degli storici del diritto. Da appassionato e dilettante fui contento, appassionato e dilettante di storia del diritto, tu fui contento cinque anni fa appena arrivato, io sono arrivato all'inizio di aprile e subito dopo ci fu uno degli incontri con il professore Aschere e con gli altri storici. Quindi nella mia memoria l'inizio della mia permanenza qua è gli storici del diritto e lo saluto di Roma. E quindi ritrovarli entrambi oggi è per me motivo di fare perdite di gioia, insomma di soddisfazione. Dopo cinque anni siamo ancora tutti qui, quindi questa è già una cosa carina. Ora presentiamo questo libro che si inserisce in questa collana che è aperta da poco di Biblioteca di Storia del Diritto. La Storia del Diritto è qualcosa di qualificante, di importante per la nostra biblioteca che è specializzata in questo argomento. Tra l'altro, adesso siamo al terzo volume se non sbaglio, come sapete sono pubblicati anche online. A noi sembra una cosa significativa perché mette a disposizione degli studiosi non soltanto testi che normalmente non si trovano perché sono esauriti o perché non sarebbero stati facilmente consultabili come appunto questo Statuto di Roma, ma anche perché chiunque può fruirne appunto grazie alla pubblicazione online. Quindi, preso atto di queste cose, considerando il tempo passato, noi che siamo qui, questa è reminiscenza mia da parte, questi ricordi che ho io, sono ben lieto di avervi qui e di salutarvi a nome sia della parte istituzionale sia dell'amministrazione. E vi auguro buon lavoro. Bene. Come moderatore io mi limiterò a dare un'informativa generale su questa biblioteca perché questa occasione, che è un punto d'arrivo importante anche nelle biografie di alcuni di voi, è al termine di un processo che è iniziato nel 1870 e che è un processo e anche un progetto deliberato, motivato, che, diciamo, di commissione di vigilanza in commissione di vigilanza, di bibliotecario in bibliotecario si è tramandato da allora. E quindi mi fa piacere vedere come siamo arrivati a questo punto. Cioè, la biblioteca nel Senato del Regno, ancora a Firenze, era una biblioteca molto limitata, non particolarmente specializzata, probabilmente c'era una base importante di legislazione a stampa degli antichi stati, cosa analoga a tutte le biblioteche degli organi parlamentari degli stati preunitari, ma non c'era nulla di particolare. Fu Attovannucci, nome che dobbiamo ricordare, insieme e con la collaborazione di Enrico Poggi, due senatori del Regno, entrambi toscani, entrambi insieme alla, che vorrei che fosse l'ottava legislatura, a Firenze Capitale. Qualche mese prima del 20 settembre decisero l'acquisto del fondo Francesco Ferro, che è il primo nucleo degli statuti, ma lo decisero pensando a un futuro che, eccoci qua, ci sarebbe stato, cioè, fare una biblioteca strana e singolare, loro dicono, in cui fossero raccolti tutti i testi statutari e tutte le storie municipali. Stiamo parlando di una unità d'Italia appena fatta, quindi l'idea era quella, nel Senato, di raccogliere la storia d'Italia formata dalle singole storie municipali, dalle singole leggi. Questo processo è andato avanti anche abbastanza velocemente, comunque si propaga fino a oggi, ancora oggi si fanno acquisti in antiquariato, perché tutto questo è stato fatto grazie al recupero degli statuti, sia libraio per libraio, sia con alcune donazioni. Quella che ho citato di Ferro è importante, come anche quella che viene da Monsignor Adamo Rossi, famoso paleografo, che ha venduto anche lo statuto qui riprodotto. questo è molto importante anche perché la capitale pochi mesi dopo, siamo nel febbraio del 71, si trasferisce a Roma. Il panorama, pensate al panorama culturale di Firenze e a quello di Roma, cioè a Firenze ci sono le biblioteche già dei medici, la maglia bichiana che poi diventerà la nazionale, sono biblioteche, pensate alla medicina la vorenziana, sostanzialmente di tradizione umanistica, laica, e a Roma ci abbiamo tutte le biblioteche ecclesiastiche. La biblioteca nazionale che sarà poi istituita nel, se non ricordo male, nel 76, poi con il diritto di stampa dieci anni dopo, è formata all'inizio da tutti i fondi provenienti dagli anti-eclesiastici soppressi, cioè lo Stato italiano, laico, borghese, anticlericale, che pensate a Presa di Roma, non ha una sua biblioteca a Roma, a Roma c'è la Casanatense, per cui noi stiamo nell'insula dominicana, vi ricordo, la Casanatense era la biblioteca dove si faceva l'indice dei libri proibiti, tanto che se volete vedere libri non censurati andate a Casanatense perché per studiarli e per motivarli non sono stati espurgati. Vabbè, c'era la Vallicelliana, l'Angelica, bellissime biblioteche, ma sicuramente non non erano il riflesso della ideologia di chi aveva, questi sono tutti senatori, molti sono ex Garibaldini, persone di cultura, che hanno un'altra concezione. Ecco, la biblioteca del Senato è stato il primo nucleo della prima biblioteca laica del nuovo Stato, l'altra è la Camera, perché la Camera dei Deputati c'è sempre stata questa divisione dei compiti, Camera dei Deputati il diritto vigente e noi il retrospettivo. Quindi la creazione di questo nucleo è fondamentale. A questo si affiancò anche l'incremento della raccolta delle legislazioni degli antichi stati e soprattutto mi preme dire che c'è una bella filo rosso che collega dalle commissioni di vigilanza sulla biblioteca perché io ho citato Atto Vannucci, Atto Vannucci un personaggio importante, era uno storico, poi c'è stato Terenzio Mammiani, c'è stato Marco Tabarrini che è stato anche presidente del Consiglio del Stato, spesso ci sono queste figure di magistrati che sono anche persone molto colte che sono anche studiosi. Poi abbiamo Messedaglia un economista statistico, Pasquale Villari storico e politico, ministro pubblica e istruzione, con la Repubblica abbiamo ancora altri nomi, De Rosa, Maria Vettamartini, Aldo Masullo, e da ultimo il presidente Vera che è uno dei più importanti filosofi della scienza e filosofi in generale italiani che ha portato a termine questa biblioteca, questa sala è stata voluta da lui quando era presidente del Senato quindi mi corre il piacere e l'obbligo di ricordarlo e di ringraziarlo perché a quei tempi io ero il direttore e abbiamo costruito un po' insieme tutte queste cose. quindi voglio dire come ricordava con la sua consueta e simpatica ironia il direttore e la commissione di vigilanza in realtà appunto anche facendosi vigilare facendosi suggerire le cose e questo ha stabilito un filo rosso che in tempi recenti ha visto colmare la grande lacuna che questa biblioteca aveva nelle fonti della storia del diritto italiano e cioè il diritto comune diritto comune io chiesi a Ennio Cortese perché mai ci fosse stato questo ritardo e lui mi disse sinceramente ma prima di Calasso non c'era questa chiara consapevolezza e quindi le opere di diritto comune prima del fondo Vassagli e del fondo Cortese sono minime ecco voi potete apprezzarne il significato l'altra considerazione importante che vi voglio fare è tener presente e questo lo dico con orgoglio di bibliotecario è che questi fondi tutti quanti insieme che costituiscono credo il panorama più completo sulla storia del diritto italiano sono accompagnati da una serie di cataloghi sia cartacei che digitali assai importanti ora e questo è un pubblico molto qualificato li conoscete ma per coloro i quali eventualmente non li conosceste vedo qualche faccia potrebbe essere di qualche studente qualche studioso e va diciamo per piacere suo e non professionale basta andare sul sito della biblioteca e troverete è inunciato tutto qualche considerazione importante c'è il catalogo del fondo cortese che è il più recente l'acquisizione del fondo cortese è stata come ben sapete l'acquisizione più importante nel campo del diritto comune trattandosi di cortese è un catalogo costruito considerando tutto l'ha scritto la redattora Alessandra Casamassi perché non è potuta venire oggi ma è presente in spirito e tenendo presente anche l'individuazione dei possessori cioè si è scoperto per esempio che non mi ricordo che opera fosse era di Bernardo Tanucci il proprietario ma insieme a Bernardo Tanucci c'è una marea di importantissimi operatori del diritto che erano possessori di questi libri cioè Ennio Cortese con la sua acutezza accademica ha individuato le opere giuste perché ricostruendo la prosopografia dei proprietari si capisce l'importanza di queste opere cioè il catalogo del fondo cortese conferma da un punto di vista bibliografico ciò che è noto che Cortese ha elaborato in dottrina quindi insomma l'orgoglio dei bibliotecari ce ne sono alcuni presenti c'è bisogna anche considerarlo cioè la biblioteca ha sempre fornito molti strumenti non vi enumero stanno nel sito tenete presente che ci sono ecco ci sono altre cose che magari uno neanche sa il fondo marinuzzi di antico diritto siciliano è a stampa sono poche copie però c'è si recupera anche dal catalogo generale ovviamente eccetera eccetera quindi io direi che a questo punto do la parola alla prima delle nostre delatrici e non mi pare di dover dire di dover dire altro grazie grazie se ce l'ho allora la professoressa Fiori della sapienza ci parlerà della collana che oggi presentiamo perché fatta questo piccolo quadro storico dobbiamo parlare del concreto esatto infatti io qui oggi ho il lieto compito del quale sono onorata semplicemente di presentare la collana biblioteca del senato biblioteca di storia del diritto che è una pubblicazione del senato della repubblica e io sono qui in rappresentanza del comitato scientifico che è presieduto da Francesco Pappalardo ed è composto oltre che da me da Alessandra Casamassima Emanuele Conte e Luca Lo Schiavo e proprio per questo il mio intervento sarà molto breve e sarà un po' un quadro degli intenti della collana e di quello che finora abbiamo fatto senza entrare nel merito del volume che invece viene qui oggi presentato e del quale si parlerà successivamente la collana insomma nei suoi intenti specialmente quelli iniziali mette a disposizione online delle opere di particolare importanza per gli studi storico-giuridici normalmente si tratta di ripubblicazioni che sono ormai libere da vincoli di contratti editoriali e per lo più si tratta di opere quasi introvabili persino sul mercato antiquario i volumi sono ripubblicati con la sola aggiunta di breve introduzioni in formato pdf e adesso anche in formato ipub questo significa che sono perfettamente e facilmente ricercabili nel testo questo sia quando l'impaginazione viene rifatta come nel caso delle prime due opere che abbiamo pubblicato sia anche quando come accadrà c'è una ristampana statica perché comunque ovviamente si utilizzerà una digitalizzazione che si che si serve del sistema di riconoscimento ottico dei caratteri il famoso OCR che quindi consentirà la libera consultazione del testo tra l'altro questi volumi per avere un bacino d'utenza ancora più ampio di quello nazionale sono anche accessibili liberamente attraverso quella risorsa straordinaria che è Internet Archive non serve che io vi dica che cosa sia ma è una biblioteca digitale senza scopo di lucro che conserva e rende accessibili a tutti documenti di vario genere tutti in formato elettronico ma che possono riguardare siti web file multimediali oltre che numerosissimi libri come il dottor Bugarelli già anticipato la causa prossima della nascita di questa collana che noi oggi presentiamo è la creazione presso la biblioteca del senato di un fondo di diritto comune un inizio è stato nel 1999 la donazione del fondo di Filippo Vassalli ma poi come giustamente ricordava il dottor Bugarelli il progetto ha preso maggior vita a partire dal 2004 con l'acquisizione della biblioteca privata di Ennio Cortese prima del fondo antico poi anche del fondo moderno che da solo contiene più di 5.000 volumi di dottrina e storia giuridica la vocazione storico-giuridica della biblioteca si è così andata modificando perché come abbiamo sentito fino ad allora il senato era specializzato soprattutto nelle raccolte di fonti statutarie e legislazione degli stati preunitari una cosa che è un interesse che era nato sin dagli anni di formazione del Regno d'Italia e come sapete come testimonia l'importante evento scientifico che si tiene qui oggi la biblioteca del senato possiede la più importante raccolta di fonti normative locali italiane dal tardo medioevo fino alla fine del diciottesimo secolo ora per dire qualche parola sui primi volumi della collana è chiaro che l'incontro tra la biblioteca del senato e la figura scientifica di Ennio Cortese è stato un incontro scientificamente fecondo e ha stimolato in chi ha letteralmente curato il fondo cortese nel senso che come è stato detto ne ha fatto anche il catalogo cioè Alessandra Casamassima sia anche negli allievi di Cortese l'iniziativa di ripubblicare la sua opera più importante cioè i due volumi della norma giuridica un testo che è considerato un caposaldo della storiografia giuridica italiana e che ben rappresenta quella che ho definito la vocazione storico-giuridica della biblioteca del senato anche pubblicato tra il 1962 e il 1964 nella collana Ius Nostrum diretta dal suo maestro Francesco Calasso questo testo conserva intatto tutto il suo valore perché nei 60 anni che separano la sua prima pubblicazione dalla nostra ristampa i lettori della norma giuridica hanno avuto modo di scoprire che si tratta di un vero e proprio tesoro per la conoscenza del mondo giuridico medievale e una miniera come ben sanno gli storici del diritto è anche il suo ricchissimo apparato di note ognuna delle quali contiene osservazioni densissime su una molteplicità di problemi questioni istituti giuridici tutte corredate da fonti e accurate indicazioni bibliografiche tanto che quasi ognuna di queste note potrebbe essere la base o il punto di partenza per un lavoro monografico la norma giuridica con una nuova introduzione scritta dai suoi allievi compreso lo scomparso Mario Montorsi che vorrei qui ricordare è stata ripubblicata grazie al grande lavoro e alla cribia di Alessandra Casamassima e di Paola Magia nel 2020 è stata per noi una grandissima soddisfazione vedere a venire alla luce questa pubblicazione una soddisfazione in parte attenuata dal fatto che a causa del Covid non abbiamo potuto organizzare un'adeguata presentazione che poteva anche servire come festeggiamento per l'autore cosa che ci avrebbe fatto un grandissimo piacere l'opera di Cortese indirettamente collega la biblioteca del Senato anche all'insegnamento di Francesco Calasso di cui Cortese è stato il primo allievo romano una figura quella di Calasso che ha fatto la storia della nostra disciplina e consentitemi anche la storia della mia facoltà perché condannato a morte dal regime fascista nel 1944 Francesco Calasso è stato chiamato ad insegnare nella facoltà giuridica romana l'anno seguente come prima chiamata antifascista diciamo così e poi della facoltà è divenuto preside tale è stato fino al momento della morte prematura nel 1965 alla sapienza Calasso ha creato una biblioteca che oggi porta il suo nome che è specializzata in testi di diritto comune e che si trova in ideale congiunzione con il fondo di diritto comune della biblioteca del senato anche perché anch'essa è stata in gran parte formata dalla scelta compiuta volume per volume che prima ricordava il dottor Bulgarelli della stessa persona cioè di Agno Cortese per adesso la scelta delle ripubblicazioni della nuova collana si sta quindi prevalentemente muovendo nel solco del diritto comune e dell'insegnamento calassiano che poi dai suoi allievi è stato spesso interpretato con tratti personali originali talvolta distaccandosene sotto alcuni aspetti come è il caso di Agno Cortese perciò la seconda opera pubblicata è anch'essa di un allievo di Calasso ed è quella di Maglio Bellomo profili della famiglia italiana nell'età dei comuni pubblicata per la prima volta nel 1966 e anch'essa adesso ripubblicata nel 1200 nel 2022 in formato PDF e anche e-pub si trova sul sito del Senato mi fa piacere ricordare in questa sede che il più anziano tra gli allievi di Francesco Calasso Piero Fiorelli che ancora nel 2020 ha curato l'edizione di un testo contenuto nella raccolta degli statuti del Senato proprio oggi compie un secolo di vita e vorrei da qui fare gli auguri ciao per concludere perché ripeto la mia era solamente una presentazione della collana vorrei fare una considerazione dopo la tremenda esperienza della pandemia sanitaria noi tutti abbiamo sperimentato quanto sia importante l'accesso online alle opere scientifiche quasi tutte le nostre università o istituti di ricerca in quel periodo hanno incrementato moltissimo la nostra possibilità di accesso a testi online la possibilità di consultare testi su piattaforme editoriali di periodici online come JSTOR o INONLINE e di scaricare i books tuttavia è facile constatare come le opere italiane nello specifico possiamo dire quelle di storia del diritto ma in realtà vale per moltissime discipline a paragone di quelle straniere siano le più difficilmente accessibili soprattutto se pubblicate nella seconda metà del secolo scorso perciò si verifica ne viene purtroppo che gli studiosi spesso preferiscano citare letteratura angloamericana semplicemente perché non trovano traccia su internet di opere italiane anche molto importanti sul tema del quale si stanno occupando se il mondo accademico da parte sua cerca di promuovere iniziative il più possibile iniziative volte alla messa in rete dei lavori di ricerca se gli enti nazionali e internazionali che danno finanziamenti alla ricerca pongono come condizione che i risultati di queste ricerche siano pubblicati in modo differente in open access se le tecnologie digitali per fortuna evolvono molto rapidamente purtroppo sul piano normativo restano enormi vincoli che non possiamo non auspicare siano resi più elastici per quanto riguarda specificamente le opere scientifiche ad ogni modo con gli strumenti oggi a disposizione e quindi nel pieno rispetto dei vincoli vigenti e ottenuti i necessari permessi dagli autori qualche volta anche facendoci invitare per un tè o anche da loro ai redi naturalmente la collana di cui stiamo presentando i volumi rispetta tutte le regole ma cerca di colmare all'interesse di colmare questa lacuna con le grandi opere della storia del diritto quindi ci poniamo l'obiettivo per il futuro di proseguire mettendo a disposizione di tutti ma specialmente della comunità degli storici del diritto e dei giuristi altre opere di grande valore scientifico ampliando il più possibile i temi e gli autori ma sempre privilegiando quei lavori che come questo si fondano sullo studio accurato delle fonti storico-giuridiche ti ringrazio grazie perfetto anche i tempi io mi scuso ma mi devo allontanare senza problemi per ragioni familiari senza problemi allora alla professoressa Torti grazie università di Milano insomma il fatto è che siete tutti molto conosciuti per cui uno non sa quasi come presentare di che cosa vi parlo di che cosa ci parlo allora devo dire che quando mi ha telefonato un mesetto fa Alessandra a casa Massima mi ha detto no no vieni dobbiamo vieni anche tu così ci troviamo tutti e parliamo di queste due operazioni differenti una importantissima pubblicazione degli statuti del 1469 di Roma di cui ci sarà anche Sandro Notari immagino anche Mario Aschieri e l'altra è la biblioteca la biblioteca e la non si sente? mi avvicino? così? allora una questa edizione degli statuti di Roma e l'altra è questa l'implementazione la continuazione di questa pubblicazione di testi fondamentali della storia del diritto degli anni passati e allora ho detto ma di cosa parlo dell'uno o dell'altro e degli statuti non mi sembrava il caso ci siete voi c'è Sandro Notari allora ho pensato a un'intersezione un'intersezione tra i due temi come si mette in connessione la pubblicazione di certe pubblicazioni di maestri della storia del diritto con la pubblicazione degli statuti tenendo conto che negli ultimi settant'anni lo sappiamo bene la storia del diritto ha avuto una forte vivacità e vitalità non solo nel numero delle pubblicazioni quella sarebbe forse la cosa minore ma proprio nella scelta delle prospettive di indagine negli ultimi settant'anni sono stati percorsi degli itinerari di storia del diritto che prima non erano neanche pensabili e questi ultimi settant'anni hanno lasciato un segno indelebile non solo sulla storia del diritto comune ce ne ha parlato Antonia Fiori ma anche sulla storia del pluralismo sull'organizzazione delle istituzioni e della società medievale nel suo complesso a partire da una fonte gli statuti che ancora negli anni 50 60 70 lo so anche un po' per esperienza erano neglettissime neglettissime da chi? sia dagli storici storici generali perché si trattava di fonti di diritto quindi non si toccano sono inutili lo dice ancora qualcuno anche non italiano e poi naturalmente dagli storici del diritto perché le fonti importanti per la storia del diritto erano quelle della sapienza giuridica e quindi nonostante tutto e adesso proseguiamo dirò qualche cosa non so se vi convincerò ma magari poi se ne può discutere quindi l'idea era proprio di capire come si interseca questo sviluppo della storia del diritto con questo sviluppo di fonti che ancora negli anni 50 60 eccetera nonostante l'importanza da cui gli statuti avevano dato gli unificatori no gli unificatori italiani erano poco usate e quindi questo mi fa pensare un po' da dove veniamo considerando che per tanti anni la ricerca storica è stata influenzata sì certo dagli interessi di chi studia ma anche dallo spirito dei tempi e adesso purtroppo lo spirito dei tempi sta un po' decadendo perché abbiamo l'anvur e quindi uno strumento di valutazione della ricerca che non sempre ci consente di fare quello che lo spirito dei tempi ci ispirerebbe all'inizio degli anni 50 e qui mi ricollego proprio a Calasso perché sarà un punto importante a due studiosi uno è Giuseppe Hermini e l'altro è Francesco Calasso che hanno sicuramente dato un'impronta indelebile allo sviluppo delle nostre ricerche di storia della sapienza giuridica ma anche di storia degli statuti e all'inizio degli anni 50 proprio con questi due studiosi che cosa vediamo un distacco un distacco dello storico del diritto e quindi del giurista storico da una tendenza dominante nel diritto nei giuristi positivi che era quello del tecnicismo giuridico della dogmatica della ipervalutazione non della storia del diritto italiano ma del diritto romano perché era stato il diritto dell'impero rinnovato in Etiopia con la conquista dell'Etiopia e quindi vediamo questi due studiosi che compiono un passo fondamentale nel tentativo di superamento di tutti quei limiti del positivismo giuridico del tecnicismo giuridico che considerava continuava a considerare lo sappiamo bene la legge dello stato come l'unica fonte del diritto il giurista come quello che avrebbe dovuto essere l'esegeta e lo stesso il giudice volendo la costituzione democratica tutto sommato molto ingombrante molto ingombrante perché staccava il sistema delle fonti dal sistema monofonte legislativo e tecnicistico che era in vigore che è stato in vigore per tantissimi anni e allora il momento il momento fondamentale di questi due giuristi a cui farò accenno è proprio quello quello di rifiutare questa da storici quindi da giuristi anche da storici rifiutare il tecnicismo giuridico dando alla ricerca storica un'impronta del tutto diversa sulle fonti del diritto su tutte le fonti del diritto diverse anche dalla legge e vediamo che le dati sono anche abbastanza significative perché se pensiamo al medioevo del diritto di Calasso del 54 nel 54 ancora non era entrata in vigore non aveva cominciato a funzionare la corte costituzionale che era bloccata da quei giuristi che dicevano ma no la costituzione è una cosa programmatica chissà l'applicheremo un giorno o l'altro quando avremo cambiato tutte le norme e mi è venuto un po' questo collegamento poi dopo ditemi se ho sbagliato direzione e se ho equivocato comunque citavo dicevo adesso è molto bello fare questa storia della storiografia ripentare una storia della storiografia giuridica degli ultimi anni dalla costituzione democratica in poi grazie anche al dizionario biografico dei giuristi italiani che grazie al supporto del senato Ennio Cortese Italo Birocchi Mattone Miletti sono riusciti di affare quindi ritroviamo un sacco di notizie che prima su tutti i giuristi e anche sugli storici del diritto che prima era molto difficile reperire allora faccio un primo accenno al primo giurista che mi è venuto in mente che è Giuseppe Permini Giuseppe Permini non dimentichiamolo è stato anche costituente e poi è stato anche ministro della pubblica istruzione nel 54 prima deputato poi senatore e aveva iniziato i suoi studi negli anni 30 già su temi piuttosto eclettici rispetto alle tendenze dominanti e quindi sui comuni sul diritto comune soprattutto quello pontificio ma poi negli anni successivi anche oltre alle grandi studi su Bartolo da Sassonferrato ricordo il diritto internazionale diritto internazionale non era ancora studiato lui pubblica i fattati di Giovanni Dallegnano che sono stati fondamentali che poi la storia del diritto internazionale ha preso a sua volta una linea specifica allora perché Giuseppe Permini beh perché lui toglie lo storico del diritto dall'isolamento rispetto agli storici quando fonda a Spoleto prima Perugia e poi a Spoleto il centro italiano di studi sull'alto medioevo gli storici del diritto nessuno quasi li prendeva in considerazione l'alto medioevo era sicuramente la materia fondamentale era quello che si insegnava di più nelle facoltà di giurisprudenza per la materia di storia del diritto ma lui inserisce lo storico del diritto nel circolo generale di tutta la storiografia di tutti gli storici e è straordinario se leggete i primi volumi delle settimane di Spoleto vedere come litigavano con veemenza perché sono pubblicate tutte le cose il primo volume è quello sui carolingi ma nella parte sulle discussioni tra storici storici del diritto e altri specialisti se ne dicevano di tutti i colori veramente in maniera molto forte quindi primo togliere lo storico del diritto dall'isolamento anche solo se dal punto di vista dell'alto medioevo e quell'isolamento che denunceranno fortissimamente Ennio Cortese Paolo Grossi nel momento in cui fonda i suoi quaderni fiorentini c'è uno scambio di lettere anche tra i due sono d'accordo lo storico del diritto è un po' fuori da tutto perché perché non è un vero storico ma non è un vero giurista e allora bisogna togliere lo storico del diritto dell'isolamento e sappiamo che adesso ancora qualche problemino in qualche facoltà di giurisprudenza a questo proposito per gli storici del diritto c'è ma arriviamo a Calasso ricordava Calasso ricordava di Calasso Antonia Fiori la sua atteggiamento antifascista poi le sue cronache le sue pubblicazioni degli anni 40 sono state pubblicate mi sembra soltanto nel 1975 ma mi interessa prima di tutto fare due note bloccatemi quanto devo parlare io non ti blocco due note sulla no no tutti i concetti preziosi due note sul suo medioevo del diritto l'ho ritrovato ho scoperto che molti di noi hanno deciso di proseguire negli studi di storia del diritto perché ancora negli anni 70 il libro di testo delle facoltà di giurisprudenza era medioevo del diritto del calasso ho letto la sua introduzione in cui lui una paginetta cerca di spiegare perché medioevo del diritto allora dice subito medioevo una categoria storica inventata diritto diritto scrive calasso metto tra virgolette diritto si dice è una cosa che i giuristi cercano ancora di definire quindi che cosa è diritto oltre che cos'è medioevo e già si andava avanti perché col medioevo di calasso siamo al basso medioevo mentre prima si studiava soprattutto nelle università lato medioevo allora e quindi qui comincia la grossa storia di calasso la storia del diritto è innanzitutto la storia delle fonti del diritto lo storico è il naturalista che deve capire quali sono le sorgenti di queste fonti e deve capire in che cosa consiste il processo creativo del diritto e guardando al medioevo qual è il processo creativo del diritto beh certo non è la legge calata dallo Stato è l'organizzazione sono le comunità sono le collettività e nelle conclusioni altro punto importante considerando che il suo testo è sul diritto comune ma una grossa parte è riservata anche allo ius proprium e quindi agli statuti agli statuti il diritto comune è la vita stessa degli ordinamenti giuridici è un fatto di civiltà lo studio medievale del diritto in tutta Europa qui collegamento tra l'Italia tra la civiltà fatto di civiltà italiano il fatto di civiltà europeo è che lo studio del diritto in Europa man mano che si è diffuso in Europa si è diffuso a partire dallo studio dei giuristi italiani e quindi un moto così di orgoglio nazionale ma in quel momento forse ci voleva dopo lo sfascio della seconda guerra mondiale il diritto comune europeo è fatto originale e creativo della storia d'Italia allora piccole osservazioni estratte qua e là probabilmente Calasso aveva molto sottaciuto nell'esprimere tutto questo nel dare questi lineamenti di carattere generale vi ho detto sono essenzialissimo ma il ci dà un po' ci spiega un po' questo atteggiamento di Francesco Calasso ce lo spiega bene Ennio Cortese naturalmente Ennio Cortese in quelle voci del dizionario biografico dei giuristi italiani ma poi confortato anche dall'opinione di altri storici del diritto che hanno affrontato che hanno studiato l'opera di Francesco Calasso e dice Cortese in fondo quello di Calasso è un lavoro di smitizzazione di alcune concezioni che si erano affermate sulla storia sulla tradizione sulla nostra coscienza non so come dire di italiani durante il potere durante il periodo fascista nella prevalenza del potere autoritario totalitario che aveva così anche a scopo simbolico anche in certi casi propagandistico ma anche per dare un'immagine alla proprio potere in un certo senso operato molte distorsioni introdotto delle distorsioni nella considerazione della storia d'Italia e uno per esempio è il mito del diritto romano su questo punto è interessante quello che dice Cortese di Calasso dice la rinascita la nascita del diritto romano lo studio nuovo del diritto romano all'inizio del medioevo non è una nascita non è una rinascita del diritto romano al contrario è una vera e propria nascita e non appunto come specifica Cortese non un'antistorica rinascita di un vecchiume che lui dice Calasso continuò continuava a ripetere dobbiamo considerare lo studio del diritto romano all'inizio del medioevo proprio come una vera e propria nascita una sorgente nuova l'altro punto importante la revisione critica delle concezioni statuali svolte nell'immediato dopo guerra sappiamo l'Italia è ripartita dopo il fascismo nell'idea della continuità dello Stato era quello che volevano anche gli alleati da noi e quindi con questo peso forte di tutta una legislazione pesante di una legislazione che ostacolava il progresso verso la democrazia e dice Cortese di Calasso Calasso rievoca le idee medievali sul significato del potere sulla autonomia dell'individuo sull'equilibrio necessario tra pubblico e privato anche proprio in senso contrario a quello che era il trend della continuità e ancora osserva a proposito degli studi sugli ordinamenti giuridici del 47 di Calasso che poi fu rielaborato nel 49 dice questo questo studio sugli ordinamenti giuridici ripresenta nella cornice di una grande ondata storico-sociologica un moto associativo caratteristico dei primi secoli del nuovo millennio il quadro della nascita spontanea dell'organizzazione autonoma di innumeri comunità che ovviamente risentiva anche della tradizione di Santi Romano sappiamo delle sue pubblicazioni nei primi decenni del novecento e ancora sempre secondo Cortese con riguardo a storia e sistema del 36 all'elogio della polemica del 50 Cortese osserva che nel sottofondo dell'opera di Calasso c'è sempre la polemica contro il positivismo erudito che gli riteneva avesse fatto scempio della storicità del diritto e contro una dogmatica che Calasso con Arturo Carlo Iemolo considerava vuota perché è sganciata dalla concreta realtà umana quindi emancipazione della storia del diritto da certe idee dominanti e nella storia del diritto anche gli statuti e se troviamo di troviamo nella premessa di Ennio Cortese alla norma giuridica che è stata citata anche proprio una continuità da questo punto di vista nella premessa Cortese dice è necessario spiegare la nascita della norma giuridica ma non dal punto di vista della legalità della formazione di una legge ma dal punto di vista dell'individuazione appunto della causa legis il primo volume che impone sempre a chi fa le norme di giustificare l'esercizio del potere normativo nei confronti di chi governa e non il contrario evitare questa autorifferenzialità del legislatore che deve sempre tener conto e giustificare l'esercizio del suo potere di fronte ai governati e questo ci porta agli statuti e cito solo un libro che mi è sembrato molto importante in questa sorta di itinerario che è l'interpretazione dello statuto di Mario Sbricoli che è del 69 l'interpretazione dello statuto di Mario Sbricoli perché inserisce proprio il primo che effettivamente inserisce attraverso l'esame di tutte le tecniche interpretative il sottotitolo e il contributo allo studio del ruolo del giurista nell'età medievale alla funzione del giurista nell'età comunale inserisce lo statuto proprio in questo meccanismo delle fonti del diritto comune che Calasso aveva presentato in maniera così potente poi i suoi allievi avevano continuato in maniera decisa quindi eleva lo statuto dalla dimensione puramente normativa e lo proietta nel sistema generale delle fonti del diritto dell'interpretazione e sappiamo poi dopo il libro di Mario Sbricoli quanti studi tutti di noi hanno fatto sull'interpretazione delle norme tra statuto diritto comune e così via ultimissimo punto che voglio ricordare è un'altra iniziativa di storici che è quella del GISEM a cui noi tutti siamo stati legatissimi e che è stata un po' la palestra di tutti noi e ho visto che nelle origini del GISEM del gruppo interuniversitario per la storia dell'Europa mediterranea fondato da Gabriella Rossetti e da chi c'era ancora Giorgio Chittolini tantissimo Mario Del Treppo Pierangelo Schiera Mario Tangheroni ma c'era ancora giovanissimo anche Mario Aschieri naturalmente poi c'era Giuseppe Sergi insomma tantissimi nostri tantissimi storici che hanno fatto la storia della nostra storiografia e anche questo questo gruppo interuniversitario anche lì ci si trovava tra tanti storici di specialità diverse abbiamo litigato tantissimo mi ricordo ci sono stati dei momenti anche di forte contesa un po' come all'inizio del CISEM per perché per capirci per capire che cosa stavamo studiando per capire come andare avanti che cosa sviluppare che cosa valeva la pena di continuare a sviluppare e poi sulla storia degli statuti da quello è successo tanto penso al dedalo statutario di Pio Caroni al problema del silenzio degli statuti non solo di quello che gli statuti dicono ma anche di quello che non dicono al problema delle riedizioni degli statuti che adesso sentiremo testi statutari magari del 300 magari non modificati o in pochissima parte che continuano a essere rieditati nei 4, 5, 600 e che assumono un valore simbolico del tutto differente che è quello dell'autonomia e quello del potere di contrattazione di certi ordinamenti nei confronti dei dominanti in questo continuo gioco di specchi che è stata la storia italiana medievale e moderna dove qualsiasi assetto si è stabilito innanzitutto sulla base della contrattazione e naturalmente chi erano i centri che avevano maggior potere contrattuale non solo i più ricchi ma anche quelli in posizioni geopolitiche particolarmente rilevanti quelli che godevano di un certo clima e sappiamo che la contrattazione ha portato certi ordinamenti addirittura a stabilire dei rapporti di diritto internazionale con la dominante perché erano centri minori ma comunque in una posizione di soggettività anche se di diseguaglianza rispetto ai centri dominanti ma questo poi diventa tema anche di Mario e scusate se sono stata troppo lunga ma vi ringrazio per l'attenzione grazie hai fatto molti suggerimenti stimoli interessanti quindi non sei stato allora la parola a Mario Ascheri che è intanto de statutis io sono intanto il presidente oggi di statutis presidente della della il comitato per le edizioni di fonti normativi è sempre merito e beh qui riguarda tutti noi due noi due in particolare noi due in particolare grazie Sandro buonasera a tutti e Claudia Storti ha non dico non dico provocato ma quasi io ero qui soltanto per fare un saluto un ringraziamento questa è dalla mia parte ufficiale un ringraziamento ai collaboratori del dello statuto dire un grazie a tutti quelli che in questi anni hanno fatto veramente un gran lavoro e il pubblico in parte sa bene cosa sono le edizioni di fonti cioè sono cose a cui in genere non ci si può dedicare a tempo pieno perché ci sono tante altre cose da fare nella vita normale più che pubblicare statuti e quindi è chiaro che sono testi sono lavori di lunga durata sono sui decenni io sono stato a Palazzo Vecchio a parlare dello statuto di Firenze era cominciato avevano cominciato venti anni fa Salvestrini e gli altri a fare lo statuto di Andrea Lancia quello del 1355 ci siamo trovati in quel bellissimo ambiente anche se avevo Cosimo sulla testa che per uno che viene da Firenze è un po' imbarazzante ma insomma devo dire che è stata una bella cosa perché si chiudeva un capitolo di storia statutaria fiorentina importante a Siena stiamo proprio notizia freschissima Andrea Giorgi ha finito almeno il testo dello statuto del buon governo cioè quello che si redasse negli anni in cui Lorenzetti dipingeva il buon governo quindi uno statutello di una certa importanza anche perché rimasto poi per due secoli in vigore con tutte le modifiche del caso eccetera però uno statuto indubbiamente importante lui non si offenderà se ricorderò poi glielo ridico che ha cominciato anche prima di vent'anni fa quindi vedete sono questioni di lunga durata ne parlammo che aveva forse lui i pantaloni corti insomma ecco però perché è perché si fa tutti molte molte altre cose e quindi anche questo ha richiesto i suoi tempi e naturalmente è stato complicato perché si doveva anche soltanto decidere come presentarlo perché questo è un testo che ha richiesto molta elaborazione ad esempio dell'Incunabolo che si fa questa è la traduzione è di un testo di cui c'è un'originale a stampa questo dell'Incunabolo di cui è data riproduzione c'è la copia digitale io non l'ho ancora visto perché ho aperto il libro oggi e ho il piacere anche di ricordare che c'è il manoscritto capitolino cioè c'è l'originale latino dell'archivio capitolino con quella bellissima miniatura che poi è questa mi pare che si può vedere in originale un testo ufficiale graficamente perfetto insomma quello dell'archivio storico capitolino quindi siamo di fronte a testi di grande importanza che non si possono qui il questo è un testo di cui si cominciò a parlare quando finivo i miei anni a Roma 3 quindi siamo intorno bo al 10 ecco diciamo così 10 del 2000 non del 1900 10 del 2000 e lì ci fu l'idea si chiacchierava di lavori appunto impossibili praticamente sì certo questo è un lavoro impossibile Daniele Stanzione che era uno dei miei così amici diciamo più che allievo perché eravamo lui poi ha fatto un altro itinerario e mi disse ma certo il mio babbo che è un appassionato di professore professore di di lingue classiche a Napoli il mio babbo sarebbe contento di lavorare di lavorare a un testo così insomma e Silvano Stanzione si lanciò in questa impresa e francamente che aveva tutte le sue ovviamente difficoltà poi per uno che non è giurista è chiaro che le difficoltà certe difficoltà aumentano ovviamente e quindi dopo il suo primo come dire la sua prima bozza di traduzione naturalmente ci sono voluti degli interventi tecnici sul testo ci è voluto tutta una serie di collaborazioni che sono ricordate puntualmente nell'edizione e quindi è inutile che vi faccia perché in parte poi gli autori appunto certamente Anna Esposito li ricorda perché hanno lasciato dei saggi importanti all'interno del volume chi ha riconsiderato quella bozza di traduzione e ha lavorato in modo sodo sul testo e sull'epoca qui è un libro che ci parla ci dà lo statuto del del Quattrocento però ci parla del Quattrocento Romano c'è un po' adesso sentiremo Anna in particolare però è chiaro che qui ci sono dei saggi che riassumono anni e anni di lavoro di storia romana chi è presente in questo in questo libro è Anna Modigliani Sandro Notari Alessandro Pontecorvi Alessandro Dani tutte persone con altre come Andrea Sreberge che vedo e saluto con piacere qui presente è un altro degli storici studiosi degli statuti di Roma e quindi devo dire si raggiunge un punto credo negli studi statutari un punto importante statuto di Firenze statuto di Roma statuto di Siena insomma sono queste altri sono stati pubblicati recentemente insomma abbiamo questa società degli statuti che si riunisce se ben ricordo a Roma qui entro giugno però abbiamo proprio la riunione qui in biblioteca perché questa è la biblioteca storicamente deputata proprio ad avere quanti anni fa ci siamo visti Sandro a Ferentino ah non qui in biblioteca giorno dopo qui a Ferentino quando tu annunciasti perché te l'avevo detto e non lo so il secolo scorso sicuramente che riprendeva finalmente la pubblicazione del catalogo degli statuti giusto giusto e di cui tu hai fatto l'introduzione a Santiago la S la S Siena Mascheri giusto 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 allora ci siamo conosciuti giusto con De Rosa con De Rosa quello di Gabriele è bellissimo un saggio io lo raccomando perché è un saggio allora è all'inizio del volume con la S del settimo volume del settimo volume online online c'è il saggio di Gabriele De Rosa sul che era il presidente della commissione di Girona sul mondo normato dagli statuti è una specie di grande affresco di grande interesse a mio avviso perché è riuscito a sintetizzare i vari livelli di normatività e di realtà considerata dalla normatività di statuti capitoli accordi vari consuetudini eccetera consuetudini che l'altra categoria che ha avuto degli approfondimenti in questi ultimi ultimi anni prima era un po' negletta poi anche qualche polemica ha aiutato a far mettere a fuoco la consuetudine che la consuetudine è da tutte le parti c'è anche oggi che siamo sommersi dalla legislazione naturalmente e quindi ci sono delle aree meno illuminate della normatività che tuttavia sono anche più efficaci di queste che sono sotto i lampioni quindi questo è un tema questo della normazione locale che ha ripreso a livello europeo ecco adesso siamo in un momento in cui abbiamo avuto quel libro di curato da Gisela Drossbach ormai 10-15 anni fa statutari law che è un libro internazionale perché è un fenomeno dai fueros expansos lì del Portogallo alle tradizioni consuetudinarie dell'Oriente europeo ci sono delle vasi normative locali che dobbiamo tenere presente sempre nella ricostruzione dei contesti e che il primato a un certo punto della dottrina di Ius Comune eccetera poi il primato della legislazione eccetera eccetera avevano fatto dimenticare insomma si pensava che fossero delle normative marginali per così dire che dovevano cedere invece alle normative nazionali e così via per evitare anche conflitti di normazione che che sarebbe bene evitare e che invece adesso ci rendiamo conto che forse sono inevitabili insomma no la normazione europea unita alle altre normazioni internazionali sta creando questa pluralità di livelli normativi che impone delle questioni di coordinamento e dei criteri di coordinamento che avevamo all'interno del sistema di diritto comune cioè è l'illusione codificatoria che è crollata cioè è durata neppure due secoli è un fenomeno quello della codificazione è stato un grande per carità grande fenomeno grande aspirazione grandi ambizioni politiche per carità giuste un illuminismo fantastico e giustissimo però però e poi ci si è resi conto io ricordo sempre quei massimari del consiglio di stato francese già prima della metà dell'ottocento voi vi rendevate conto che senza i commenti dottrinali e giurisprudenziali non si arrivava da nessuna parte cioè il mito della semplicità chiarezza coerenza tutto quello che volete della codificazione era già di fatto era già di fatto superato non si diceva per decenza per serietà e così via anche perché i codici bisognava trasferirli allo stato italiano unitario che è stato un fatto importantissimo di unità per carità come lo sono ora dal punto di vista naturalmente della normativa diritto di famiglia diritto di successione nei codici si sono fatti dei progressi enormi però si diceva proprio stamane con Stefano Amore che è il direttore di Nova Itiner è come si siano create delle stratificazioni in cui dalle quali è difficile uscire senza qualche ammacco perché non 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 è facile districarsi in questa situazione se voi prendete un libro di diritto comune del settecento vedete che tipo di stratificazioni appunto ci sono io raccomando sempre per rendersi conto perché è anche utile dal punto di vista del lavoro proprio dello storico normale il Toschi Tuscus Dictionarium Iuris una fare così decisionum dunque questo Geronimo mi pare che cardinale che concorse anche per diventare papa poteva essere Domenico Toschio un modenese che ha fatto questo dizionario alfabetico della delle dottrine consigliari diciamo per cui voi andate alla voce alfabetico vai alla voce Roma e trovi perché Roma è stata considerata dai giuristi Roma sul Tevere perché Roma può essere considerata ci sono tutto con la citazione del giurista che ne ha parlato per cui hai le fonti per fare una storia di Roma dal punto di vista come Roma era vista nel diritto comune nei testi applicativi del diritto comune quindi non soltanto per aria come si insegnava nelle università ma come quali problemi di Roma in concreto venivano fuori nelle corti e quindi insomma è una sintesi di fantastico interesse ho capito quando uno guarda l'orologio ho capito che sono già arrivato a un punto dolente quello che dovevo dire dello statuto l'ho messo in alcune paginette introduttive che riassumono un po' alcune regole di cautela ecco nello statuto non si deve trovare tutto anzi io mi meraviglio quando qualcuno si meraviglia che non ci sia tutto lo statuto si fa per fare cose che servono di nuovo è chiaro che non mi mettono che cos'è la dote che cos'è l'usufrutto è ovvio perché lo sapevano tutti chi doveva applicare lo statuto cioè ci sono lo statuto è un diritto frammentario per definizione diritto incompleto per definizione non cercate l'elenco delle strade ma trovate delle cose di urbanistica interessantissime perché basta in uno statuto la notizia e siamo andati capito basta una notizia di una strada dove c'è la fonte da risistemare e avete subito un'idea sicura in quell'anno si parla di questa cosa poi può darsi che cinque anni dopo non ci fosse più niente naturalmente lo statuto vi fotografa un momento un momento quello in cui gli statutari hanno lavorato o chi ha ripreso uno statuto precedente ha pensato di varare lo statuto nuovo con i rattoppi eccetera eccetera quindi non avete uno statuto che sia mai uno specchio della realtà lo statuto è filtrato da chi lo redige dai testi che i redattori hanno trovato pronti per redigere il nuovo statuto quindi bisogna essere sempre prudentissimi non è la verità è un testo che però ha passato il vaglio della curia pontificia è stato stampato è stato distribuito anche lì è già un problema al numero soltanto questo naturalmente Anna ci illuminerà su questi dettagli ma ci hanno dettagli importanti perché vi fanno vedere come dura la vita degli statuti e come dura la vita di chi deve stare a sentire gli statutologi grazie mi permetto solo un'osservazione sei esterna e hai l'autonomia di giudizio prima di dare la parola alla professoressa Esposito che è benivista e non sta arrivando a diritto mi permetto una piccola osservazione ma ti piace veramente questa miniatura non potevo mica dire ci sono delle cose che quando si ha una posizione istituzionale non si dicono però ma io ti posso dire che quando soprattutto alle scolarische non agli studiosi lo presentavamo diciamo vedete assomiglia proprio a una tessera dell'Atac l'Atac sarebbe la tessera dell'Atac degli anni settanta grossomodo nel senso tu mi confermerai che esistono le miniature molto più belle infatti non l'avete messa in copertina c'è stato un problema col grafico per quale non la voleva neanche mettere insieme bene allora la parola alla medievista allora buonasera grazie per l'invito a presentare questo documento così importante e comincio subito la riforma degli statuti di Roma nel 1363 portata a termine nel 1469 per volontà del pontefice Paolo II appare un tema di grande interesse nella complessa vicenda storica delle fonti normative municipali romane più di quanto la storiografia abbia generalmente ritenuto in passato il volume che oggi presentiamo e in particolare i saggi che introducono la traduzione italiana dello statuto riformato lo mostrano chiaramente e lo vedremo a breve prima però voglio soffermarmi proprio sul lavoro di traduzione che Ascheri ci ha introdotto in qualche modo ecco la traduzione di un testo giuridico complesso come quello di uno statuto municipale e particolarmente quello di Roma non vi è dubbio che si è trattato di un'impresa di grande spessore anche per le difficoltà incontrate dal traduttore il professor Silvano Stanzione nell'affrontare il testo del più antico testimone dello statuto del 1469 a noi pervenuto ovvero l'incunabolo pubblicato a Roma dal tipografo bavarese Ulrich Han tra il 1470 e il 1474 e oggi conservato in pochissime copie tra cui l'esemplare miniato presente nella biblioteca del Senato appunto per inciso si tratta del più antico esemplare a stampa della raccolta statutaria di questa biblioteca e probabilmente della prima stampa statutaria italiana in assoluto il testo dell'incunabolo è molto scorretto per cui si sono dovute integrare parti mancanti e ovviare ai non infrequenti errori di stampa ne erano ben coscienti già i contemporanei che reagirono in modi diversi ad esempio e l'esempio è tratto dal saggio di Alessandro Pontecorvi nel novembre del 1475 cito nell'ambito di una lite con i frati agostiniani di Campo Marzio un ignoto personaggio aveva negato in toto l'autenticità della normativa vigente cito perché diceva che non era autentico lo libro degli statuti perché era forma alimentati dalle inesattezze e dall'inusuale veste a stampa dell'ordinamento i sospetti erano prevalsi e il priore del convento aveva dovuto chiedere aiuto al protonotaio del senatore affinché rilasciasse cito la fede degli statuti dei Roma vecchi che foro prodotti come sottolinea nella premessa Sandro Notari che insieme ad Anna Modigliani ha curato il volume si tratta di un progetto editoriale intrapreso con ambizioni scientifiche e insieme con un intento divulgativo finalizzato ad avvicinare un pubblico più ampio di lettori alle normative comunali romane medievali non è stata un'impresa facile per ottenere una tradizione adeguata infatti occorreva conoscere oltre al latino medievale e al diritto del tempo il contesto storico istituzionale e ambientale della comunità per la quale quelle norme erano state concepite raramente aggiunge Notari un simile patrimonio di competenze si trova riunito in un unico studioso anche per questo la traduzione di uno statuto è un'operazione complessa che richiede un impegno collegiale di equip soprattutto per un testo molto ampio come questo che stiamo esaminando che conta oltre 700 capitoli frutto di una stratificazione normativa risalente a periodi differenti e per l'assenza di un'edizione critica del testo che priva il traduttore di un sicuro punto di riferimento da qui la necessità di avvalersi dell'apporto di studiosi con competenze diverse che hanno collaborato anche a scrivere i saggi introduttivi al volume utili per un inquadramento dello statuto quattrocentesco nel contesto della storia cittadina romana mi sembra doveroso ricordarli soprattutto per coloro che non hanno ancora preso visione del volume dopo una breve introduzione di carattere generale sugli statuti comunali da parte di Mario Ascheri Anna Modigliani si è concentrata sulla figura di Papa Paolo II il committente della revisione statutaria del 69 e sul suo rapporto con la società cittadina e le sue istituzioni Sandro Notari nelle sue puntuali note storico-giuridiche relative alla prima riforma pontificia dello statuto pone invece l'attenzione sui contenuti normativi in un serrato confronto con quelli emanati dal comune popolare del 1363 e affronta seppure in estrema sintesi le questioni più significative poste dal testo statutario Paolino a sua volta Alessandro Pontecorvi esamina i due testimoni del testo degli statuta del 1469 la preziosa mas corretta edizione incunabola di Anna e il manoscritto conservato nell'archivio storico capitolino ornato da stemmi decorazione a bianchi girari e iniziali in oro scritto nel 1486 dal copista brabantino Oddo De Beca che contiene oltre alle disposizioni aggiunte presenti nell'incunabolo nuovi documenti e riforme successive fino al 1509 allegati nel tempo da mani diverse e spesso su istanza dei pontefici è probabile quindi che entrambi siano derivati da un manoscritto perduto perché in entrambi si rilevano molti errori comuni ma comunque il manoscritto capitolino è più corretto dell'incunabolo l'ultimo saggio introduttivo è di Alessandro Dani che ci offre qualche nota comparativa tra lo statuto di Roma del 69 e quelli di altre città laziali del tempo osservazioni che permettono di far emergere con ancora maggiore evidenza i caratteri specifici della normativa municipale romana entriamo ora in media stress dato il tempo limitato non starò a ripercorrere la storia della legislazione statutaria medievale del comune di Roma né i caratteri dello statuto del regime di popolo che si trovano efficacemente presentati nel saggio di notari ma mi concentrerò sullo statuto riformato da Paolo II cercando sulla scorta di quanto proposto nei saggi prima citati di mettere in luce in primo luogo le ragioni che spinsero questo pontefice a promuovere la riforma ogni generazione e tutti gli esseri viventi sono propensi al male sin dall'adolescenza e per tutto il corso dell'esistenza inclini al piacere tendenti ai vizi e facili a scivolare nei delitti per l'eliminazione di tutto questo è utile emanare nuovi statuti per l'alma città di Roma e per il suo illustre popolo e riformare quegli antichi e migliorarli in base al cambiamento dei tempi e secondo l'esigenza del santissimo signor nostro Paolo II e dello stato della chiesa romana eliminare quelli simili inutili contraddittori accelerare i processi sollevare le parti in causa dall'onere delle spese così nel prorogo degli statuti del 1469 ma anche nella bolla di conferma di questa riforma del 30 settembre dello stesso anno che è integralmente edita in appendice al nostro volume vi è il riferimento al tempo trascorso a generiche esigenze del Papa e dello stato ecclesiastico all'opportunità di razionalizzare le norme preesistenti più significativo come ha osservato Anna Modigliani è il richiamo agli statuti del vecchio regime popolare che potevano costituire un pericolo per la libertà della chiesa e che erano stati in vigore troppo a lungo da qui una critica abbastanza esplicita nei confronti dei pontefici precedenti e cito sempre dalla traduzione che non avevano avuto il coraggio di rompere con il passato e di dare piena pubblicità al restauro della signoria pontificia sulla città continuando a confermare statuti ormai inadattabili agli avvenuti mutamenti istituzionali infatti dopo la conclusione nel 1398 dell'esperienza dell'autonomia del comune romano gli statuti del 1363 rimasero in vigore anche se non tutti i precetti continuarono ad essere attuati vi furono poi delle riforme come la soppressione della milizia popolare dei balestrieri e pavesati la nobina papale del senatore forestiero l'assoggettamento della camera urbis alla camera apostolica eccetera riforme che però non si tradussero in nuove norme dello statuto i predecessori di Paolo II preferirono emanare norme in deroga senza modificare il testo statutario dunque Papa Barbo fu il primo che decise di intervenire affermando anche in questo modo la sua concezione fortemente monarchica del ruolo del poltefice in conformità scrive la Modigliani alle linee ideologiche costantiniane e a una concezione del potere temporale del Papa in continuità con quello degli antichi imperatori la riforma statutaria è da lui promossa in nome della specifica sovranità esercitata sulla città di Roma da parte del pontefice e costituisce la prima revisione ufficiale dello statuto comunale del 1363 segnò dunque l'atto di adeguamento dello statuto comunale romano alla mutata forma di governo da parte di una commissione di giuristi alcuni erano avvocati concistoriali nominata da Paolo II e supervisionata dai padri della reverenda camera apostolica ciò non toglie però aggiunge notari che Paolo II sottopose la riforma del testo statutario all'approvazione dei consigli cittadini nel rispetto quanto meno formale dell'ordinamento comunale come indicato dallo stesso pontefice nella bolla di approvazione vediamo ora quali furono gli interventi più significativi attuati dai riformatori a questo proposito è bene premettere che in tutto lo statuto riformato si possono rilevare caratteri di continuità e discontinuità con lo statuto del 300 apparentemente vengono apportate solo poche modifiche identica resta la struttura in tre libri dei quali il primo e il secondo dedicati rispettivamente alla legislazione civile e criminale recono il maggior numero di emendamenti e rimaneggiamenti mentre il terzo dedicato all'organizzazione comunale sembra contenere solo pochi vitocchi in realtà vengono cancellati i capitoli che contenevano riferimenti all'esperienza politico-istituzionale del regime popolare e contemporaneamente si cercò di limitare la facoltà di elezione dei magistrati dal parte del popolo romano che secondo i precedenti statuti avveniva tramite imbussolazione ad esempio viene eliminata l'importante rubrica d'elezione senatoris con le complesse procedure elettorali atte a garantire una scelta corretta e senza condizionamenti esterni perché ormai da tempo il senatore era di nomina papale le cui principali competenze riguardavano soprattutto l'ambito giudiziario al suo posto ne viene inserita una nuova relativa alle competenze dei capiregione diretti collaboratori dei tre conservatori questi ultimi di solito esponenti di famiglie dell'aristocrazia municipale la magistratura dei capiregione per l'ampiezza delle funzioni attribuite diviene ora e lo ha fatto notare a suo tempo Paola Pavanna un efficace strumento di controllo sociale economico e militare decentrato ciascuno per il proprio rione il tribunale del Campidoglio continuò a mantenere la competenza civile e penale sui cittadini e abitanti di Roma ad eccezione dei membri del Crero e dei cortigiani pontifici la cui immunità peraltro era già stata sancita da Papa Benonifacio IX all'inizio del Quattrocento anche sotto il profilo simbolico si evidenziano cambiamenti significativi dallo statuto riformato si emenda la rubrica De Ferris che elencava i giorni di sospensione dell'attività giudiziaria nella Curia Capitolina colpisce infatti la sostituzione del Festum De Inquazione Presentis Status ovvero dello Stato Popolare che si celebrava il 20 maggio con la messa dello Spirito Santo nella chiesa dell'Araceli chiaramente improponibile ai tempi di Papa Barbo con la festa di San Bernardino da Siena le cui predicazioni a Roma erano ancora vive nella memoria dei cittadini più anziani perché come ha osservato Anna Modigliani anche per le feste come per le leggi è sempre opportuno mantenere per quanto possibile una linea di continuità ed evitare drastiche cancellazioni altri elementi però sono da mettere in evidenza quelli che Sandro Notari definisce tratti distintivi della città i quali presenti nella nomertiva trecentesca si conservano nei secoli successivi e in particolare nello statuto di Paolo II il primo è il legame ideale che la comunità cittadina instaurò con la Roma classica il secondo è il carattere popolare e antinobiliare dell'ordinamento comunale temi molto presenti negli ultimi anni nella storiografia romana sintetizzando al massimo e limitatamente a riferimenti statutari viene ricordato in relazione al primo punto come il richiamo alla Romanitas venisse espresso in varie forme ma soprattutto nel recupero della tradizione giuridica romano-giustunianea un recupero scrive Notari che si tradusse nella preferenza riservata dallo statuto cittadino allo ius civile romano nella graduazione delle fonti integrative e sussidiarie rispetto al diritto canonico e nell'adozione nella curia capitolina ovvero la massima espressione della libertà municipale romana di un peculiare stilus iudicandi strettamente obbediente alla legge che continuò per secoli a caratterizzare questa corte e a distinguala dalle corti papali operanti in città il secondo elemento distintivo del comune romano che permane negli statuti del 1469 è la sua fisionomia antinobiliare presente marcatamente in quelli trecenteschi la ritroviamo senza variazioni anche in quelli di Paolo II infatti se sia Cola di Rienzo sia il successivo governo dei banderesi avevano voluto controllare la conflittualità baronale escludere gli esponenti di quei lignaggi dalle magistrature capitoline e possibilmente allentare i legami vassallatici anche Paolo II e i pontifici del IV e I V si fanno sostenitori della volontà antimagnatizia del popolo romano e quindi della conservazione e dell'osservanza delle norme che furono emanate a questo scopo nel Trecento con l'obiettivo di arginare la forza delle grandi famiglie baronali Orsini Colonna Savelli eccetera Caetani che mettevano a rischio la pienezza del potere papale sulla città perciò non diversamente da altre legislazioni comunali antimagnatizie e Alessandro Dani ne fornisce qualche esempio per le città laziali i baroni romani scrive notari erano esclusi dalle cariche pubbliche e sottostavano in ragione del loro status a specifiche sanzioni pecuniarie il cui ammontare oscillava fra il doppio e il quintuplo di quello stabilito per i milites cavallerotti a cui a loro volta era applicata una sanzione doppia rispetto ai pedites o populares in questo modo lo statuto dava formato normativo alla tripartizione cioè popolari cavallerotti e baroni dei membri del corpo sociale cittadino inoltre di particolare rilevanza appaiono i capitoli antimagnatizi da cui emerge l'interesse pubblico ovvero del comune cittadino a contrastare le forme violente di giustizia privata e i tentativi di sottrarsi agli apparati di giustizia da parte dei baroni contro cui Paolo II aveva emanato già nel 1466 la bolla virus sanguineos et dolosos che è presente tra le disposizioni aggiunte sia nell'incunabolo e quindi sta lì sia nel manoscritto capitolino e in traduzione anche del nostro volume oltre agli aspetti politico istituzionali lo statuto del 1469 e le disposizioni aggiunte offrono molti spunti per illustrare la vita della città di Roma ampio spazio è dato qui come altrove alla legislazione penale e al sistema punitivo che riprende come abbiamo accennato quasi senza variazioni quello del comune trecentesco vi sono inoltre riferimenti alle attività economiche alla vita sociale alle feste quelle religiose in primis ma anche con particolare insistenza quelle laiche relative al carnevale che Paolo II accrebbe con l'istituzione di sei nuovi pali insomma quasi per ogni tematica relativa alla vita cittadina e alla società municipale è necessario fare riferimento allo statuto che del resto è quasi sempre richiamato ad esempio negli atti notarili soprattutto per quanto attiene alle successioni e all'istituto dotale non è certo possibile in questa sede entrare nel merito dei tanti settori su cui legifera lo statuto Paolino ma vorrei almeno fornire un esempio in base alla mia esperienza di studiosa della società romana rinascimentale e lo vorrei fare esaminando una problematica che anche recentemente ha tirato l'attenzione della stereografia la legislazione suntuaria che è strettamente legata all'evoluzione della società cittadina e almeno per quanto riguarda le doti anche alla normativa statutaria in materia nell'incunabolo che stiamo esaminando compare tra le disposizioni aggiunte allo statuto del 1469 e l'abbiamo in traduzione anche nel nostro volume e reca la personale impronta di Paolo II oltre al fatto che ne dà l'approvazione quando gli fu sottoposto dai cives redattori legiferando sul lusso questa è la notazione di Ponte Corvi Paolo II era ricorso a un mezzo di organizzazione e controllo sociale già sparimentato da altri pontefici ma vorrei aggiungere con obiettivi più mirati rispetto ai predecessori infatti a partire da Martino V nel 1418 anche a Roma vennero proposte nei consigli comunali delle norme che perseguivano l'intento esplicito di limitare le spese superfue non solo per l'abbigliamento ma anche per due circostanze di grande rilievo sociale i funerali e le nozze con particolare riguardo all'entità delle quote dotali e alla fastosità dei banchetti in realtà un secondo e forse più importante obiettivo era quello di impedire agli strati inferiori della società in periodi di rapido sviluppo economico e sociale la possibilità di emulare lo stile dei vita dei ceti eminenti di antica tradizione queste norme pur elaborate in privato e generali urbis consiliis dalle magistrature municipali potevano essere oggetto di significativi interventi pontifici e questo è un elemento che va tenuto sempre presente infatti era il Papa che doveva approvare in ultima istanza questi decreti cosa che faceva dopo averne sottoposto il testo a un'apposita commissione da lui nominata ecco facendo a volte anche degli interventi molto importanti infatti ecco è un test questa legislatura interessante per evidenziare i reali obiettivi del pontefice nel ratificare la normativa e al contempo la capacità contrattuale della municipalità nel difendere le proprie istanze infatti mentre le magistrature cittadine oltre a contenere le spese superfie eccetera avevano come finalità primaria la salvaguardia dell'identità municipale tutelando la tradizione sia per le feste nuziali e per quelle funebri sia per l'abito tradizionale delle donne romane vediamo il pontefice cui queste preoccupazioni erano del tutto estrane operare per accentuare le distanze tra le diverse componenti della società romana e in particolare tra i romani da una parte e dall'altra i baroni che hanno sempre rappresentato un gruppo elitario a sé stante i forestieri e i curiali questi ultimi già sottoposti alla giurisdizione municipale scusate già sottratti alla giurisdizione municipale da Martino V e costituendo quasi un mondo a parte ed è proprio con Paolo II che per la prima volta si possono rilevare importanti integrazioni e variazioni alle disposizioni suntuarie proposte dai magistrati cittadini tralasciando quelle relative a vesti e ornamenti voglio richiamare l'attenzione sulla problematica dotale su cui interviene non a caso il primo capitolo di questa legislazione che fissava per tutti tanto maschio quanto femmina de qualunque stato grado condizione o preeminenzia sia romani o forestieri in Roma abitanti le quote dotali a 800 fiorini correnti e l'acconcio luziale a 600 peraltro cifre del tutto fuori mercato in quanto in quel periodo le somme erogate dai nobili sviri per le doti delle loro donne erano in genere il doppio per costoro e cito dal nostro infunabolo piacque a sua santità aumentare il valore delle doti maggiori così che sia possibile stabilire senza alcuna pena una dote fino a 900 fiorini e così l'acconcio fino a 700 l'osservanza di queste norme era vincolante sia per i cittadini di Roma che per gli abitanti del distretto mentre per quanto riguarda i baroni ci si rimetteva c'è scritto all'arbitro del pontefice quasi a voler sottolineare che Paolo II sarebbe potuto intervenire anche nei loro riguardi in questo campo non si facendo invece a coloro che facevano parte della curia papale in gran parte non romani e ai forestieri non stabilmente residenti in città di fatto esentati e dunque liberi di comportarsi come meglio credevano è evidente perciò soprattutto per quanto riguarda l'istituto dotale che permettere ai forestieri e a coloro che operavano nella curia di dare alle figlie doti di qualsiasi entità molto superiori a quelle fissate per legge a cui erano costretti i cives romani era certamente un incoraggiamento all'esogamia per un gruppo come quello della nobiltà cittadina tradizionalmente chiuso al suo interno proprio quel ceto sociale che i pontefici cercavano in tutti i modi di snaturare per addomesticarlo meglio termine addomesticato è tratto da un famoso saggio di Hannos Desch che mi fa piacere ricordare in questa sede naturalmente valeva anche per quei tempi il proverbio fatta la legge trovato l'inganno i nobili romani cheppure avevano contribuito a elaborare i capitoli suntuari dovettero presto rendersi conto che nei fatti molte disposizioni erano inattuabili di certo quelle relative alle quote dotali come si legge in una supplica rivolta a Papa Innocenzo VIII da Lorenzo Leni i nobili romani se avessero dato doti conformi alle leggi alle loro figlie queste sarebbero rimaste inutte zitelle perciò o sì o non si curarono affatto della normativa e continuarono adottare le figlie con somme adeguate al loro livello sociale o ricorsero appunto alla supplica al pontefice per essere esonerati dalle norme vigenti in questo modo il Papa in qualità di signore della città mostrava verso i suoi sudditi liberalità e benevolenza ma soprattutto il suo potere concedendo una licenzia dispensazione met indultum che permetteva seppure al caro prezzo da pagarsi alla cancelleria vaticana uxorem ducere et coniugali leggi detineri con una dote superiore alle leggi vigenti solo due parole a chiusura di questa breve nota come viene sottolineato in quasi tutti i saggi che introducono il testo degli statuti e come ho cercato anch'io di evidenziare il pontificato di Paolo II risulta centrale nella storia della città di Roma soprattutto per il rapporto che il pontifice stabilì non solo con il popolo romano ma anche con le minoranze che ormai erano presenti a Roma sempre più numerose ebrei compresi il fatto stesso che abbia messo mano primo tra i pontifici del 400 alla riforma dello statuto cittadino mostra senza ombra di dubbio la volontà di affermare il suo ruolo di signore assoluto della città e lo dichiarava esplicitamente nel prologo degli statuti e nella bolla di approvazione aveva però anche cercato di conquistarsi il favore dei cittadini con feste e banchetti tanto apprezzate dai romani che ne vennero coinvolti ad ogni livello sociale cercando anche in questo modo di avere la loro fedeltà e il loro appoggio come notava acutamente l'oratore Agostino Rossi scrivendo nel 1466 al Duca di Milano se deletta sua beatitudine molto in fare de feste qua secondo li tempi e te dare pastura al popolo come prudentissimo signore che l'è per gratificarselo e mandarselo tanto più devoto e benivolo termino tornando sulla questione della committenza della stampa degli statuti riformati dunque sull'inconabolo al centro della nostra attenzione se ne era già occupata nel lontano 1999 Anna Modigliani in un articolo pubblicato sulla rivista nella rivista Roma nel Rinascimento in cui aveva analizzato il decreto reperito negli archivi della Camera Apostolica con il quale il 7 giugno 1474 il cardinale Latino Orsini camerario di Papa a Sisto IV obbligava i professionisti del diritto cioè avvocati procuratori sette notari ad acquistare una copia dei nuovi statuti mi sembra opportuno perciò concludere con le sue osservazioni peraltro riproposte da Alessandro Portecorvi nel suo saggio secondo la Modigliani il documento chiarisce come sia la riforma del 69 sia la stampa dello statuto da parte di Uri Khan fossero state decise da Paolo II e realizzate dalla Camera Apostolica suo principale organo di governo tali decisioni e cito terminando erano state prese in anni precedenti superiori busanis non meglio precisati rispetto al giugno del 1474 la prima come si è detto da Paolo II quanto alla seconda non è possibile sapere allo stato attuale delle ricerche se sia stato lo stesso Papa Barbo a stabilire la stampa dei nuovi statuti oppure Sisto IV in un momento successivo e non troppo distante dall'effettiva realizzazione dell'edizione a completamento dell'iniziativa presa dal suo predecessore vi ringrazio grazie non finisce qua perché a questo punto i due curatori penso debbano dire qualcosa bene noi ci possiamo pure alzare grazie Sandro aspettiamo l'arrivo anche della professoressa si che vuole accumularsi anche lì forse più poco fate in stereofonia ai curatori compete esclusivamente ringraziare ringraziamenti doverosi ringraziamenti assolutamente non formali a coloro che hanno contribuito a che i lavori di questa giornata si svolgessero e anche alla realizzazione del volume su Roma e sullo statuto di Roma del 1469 che abbiamo appunto presentato mi rendo conto del rischio che sto per correre perché presentare un elenco degli enti e delle persone che hanno dato questo contributo fa correre il rischio di dimenticanze e quindi di gaffe ma correrò proverò a correre questo rischio sapendo appunto a cosa posso andare incontro il primo ringraziamento naturalmente va alla commissione biblioteca e archivio storico del senato e e al presidente Pera che ha dato naturalmente il suo assenso affinché tutto ciò potesse avvenire naturalmente ci ha onorato del suo saluto e della sua presenza e quindi va anche a lui il suo nostro ringraziamento il direttore della biblioteca ci tengo però a fare uno speciale ringraziamento alla dottoressa Casamassima senza il cui apporto senza il cui contributo noi non avremmo avuto probabilmente né questa giornata di lavori né il volume né il volume né il volume stesso non è potuto intervenire e direi che potremmo ringraziarla con un applauso ringrazio sempre insieme naturalmente alla professoressa Modigliani con la quale insieme abbiamo curato anche faticosamente per un lungo periodo questo ma con piacere credo di entrambi questo volume ringrazio volevo dire l'associazione Roma nel rinascimento e il presidente che è qui che è qui tra noi la professoressa Farenga che ha creduto fin dall'inizio in questa in questa impresa e che è stata anche molto paziente nell'attendere diciamo insieme a tutti gli altri questo decennio che è quasi decennio più o meno di tempo che è intercorso fra l'inizio delle operazioni e la conclusione del lavoro quindi ci tenevo a ringraziarla vorrei però ringraziare anche la professoressa la professoressa Chiabò la professoressa Chiabò che ha dato che prova a nascondere sì ecco io la definisco se posso mutuare un sintagma la definirei la mano invisibile dell'operazione di la mano invisibile dell'operazione di edizione e quindi mano invisibile ma concretissima che ha aiutato molto affinché questa operazione potesse andare potesse andare in porto ringrazio il comitato scientifico della collana editoriale del senato il comitato scientifico che è stato oggi qui rappresentato dalla professoressa Fiori per aver accolto il nostro il nostro volume e per avere all'interno di questa collana della quale ci ha parlato e per aver inaugurato ci tengo a precisarlo per aver inaugurato con questo volume una nuova sezione dedicata alle fonti gli altri due volumi precedenti riguardavano i grandi lavori degli storici del diritto eccetera noi inauguriamo con questo volume una nuova sezione dedicata alle fonti in maniera particolare la fonte così importante dell'incunabolo del quale abbiamo testè parlato ringrazio naturalmente gli illustri gli illustri relatori che hanno accolto che hanno accolto con generosità il nostro il nostro invito e con grande squisitezza la professoressa la professoressa Esposito e la professoressa Storti e ci tengo a fare un ringraziamento speciale al nostro presidente di oggi a Sandro Bulgarelli all'amico Sandro e ci tengo a dire in questo diciamo così sì sì certo ci tengo a dire che l'amicizia con Sandro è un'amicizia preferentinate cioè precedente al 1988 quindi in questa disputa fra me e il professore Ascheri e credo addirittura di un decennio precedente ma non andiamo troppo in là con il tempo che potrebbe essere potrebbe essere compromettente c'erano statuto ai piedi dalla Marguna e la Ventimiglia un ringraziamento sentito va naturalmente agli autori dei saggi oltre a me e alla professoressa Modigliani e cioè i due Alessandri Alessandro e il professore Alessandro Dani e il dottor Alessandro Alessandro Conte Corvi un ringraziamento ultimo ma non ultimo prima di parlare del professore Stanzione un ringraziamento ultimo ma non ultimo a tutti i partecipanti presenti fisicamente in questa sala che hanno avuto la cortesia di venire ad ascoltarci e anche a coloro che sono collegati da remoto attraverso la web tv del Senato tra questi c'è anche il professore Rolando Dondarini che non è potuto intervenire il professore Rolando Dondarini è il presidente della De Statutis Society e approfitto di questa circostanza per ricordare come faceva già il professore Ascheri Mario Ascheri che il 23 di giugno ci sarà sempre in questa prediletta sala sempre in questa prediletta istituzione della biblioteca del Senato l'assemblea annuale della società De Statutis Society che si occupa appunto di statuti da un certo periodo di tempo diciamo così e quindi con molti di voi sarà anche con alcuni di voi si tratta non solo di un saluto ma anche di un arrivederci per questa data del 23 di giugno a questo punto io non so se il professore Stanzione che è l'autore della pregevole traduzione vuole dire qualcosa e noi saremmo naturalmente felici grazie applausi grazie così si si metto qui ecco si così e tu e tu e tu io vorrei innanzitutto ringraziare la professoressa Esposito perché ha tracciato una sintesi chiarissima e precisa di quello che è stato il lavoro di equip che ci ha permesso di arrivare a questa edizione vorrei per quanto riguarda poi aggiungere che per quanto riguarda le fonti in base a quanto è stato detto dalla professoressa Storti che indubbiamente l'orientamento attuale o quello che è subentrato alle precedenti ai precedenti orientamenti di una legislazione fondata su criteri generali è importantissima e fondamentale perché naturalmente è dalla esperienza diretta che viene citata e sottintesa dagli statuti che si possono formulare delle leggi non delle situazioni teoriche che non hanno nessuna valenza poi ai fini dell'applicazione della norma vorrei alla fine concludere dicendo che a mio avviso per quella che è stata l'esperienza personale c'è da augurarsi che tutti gli studi successivi relativi alla realizzazione di opere come quella che è stata edita con la collaborazione ripeto di tante persone sia fondamentale perché per arrivare a uno studio serio ed effettivo delle realtà normative bisogna partire dalla fonte quindi occorre sicuramente una base legata alla traduzione della fonte da cui possa poi scaturire successivamente la considerazione generale legata alle varie questioni specifiche non ho altro raggiunto prima di concludere Nunzio Vobbis volevo solo fare un aggiunto perché una dimenticanza granissima c'è stata e quindi io vorrei prego prego non sei levato perché la dimenticanza è grave riguardo il professore Ascheri che è stato magna pars dell'opera come ho scritto nella premessa è il deus ex machina di tutta questa operazione quindi ci tengo scusandovi ma dulcis in fundo diciamo così quindi riparo in questo modo alla dimenticanza precedente chiedo un intervento riparatorio appena fatto appena fatto non ti posso scusare non per questo in particolare no veramente volevo approfittare ringraziando ovviamente dell'ospitalità e tutto volevo però approfittare di questo momento di corale dei romanisti tra virgolette degli studiosi di roma perché mi è venuto in mente che da qualche parte viene fuori che il salomonio intorno al 1500 che vedo che c'è chi lo conosce mario salomonio intorno al 1500 insegnò gli statuti viene fuori da qualche parte questa notizia che non è che sia così pacifico che si insegnassero lui era un giurista professore dello studio e viene fuori da qualche parte che proprio intorno all'anno 1500 lui insegna gli statuti allora alla pregevole dotta riunione di romanisti vorrei lanciare l'invito se date un'occhiata alle vostre carte schede eccetera sarebbe estremamente interessante trovare una serie di uno che ha fatto una reportazione delle qualcosa di queste lezioni sugli statuti pensate come potrebbe essere interessante trovare lo studente dotto lo studente diligente diciamo ecco che ha preso appunti un manoscritto che si può trovare come sapete meglio di me ovunque un manoscritto così perché uno apre un bastandello notarile e dentro ci sono gli appunti delle lezioni sugli statuti di Roma e quindi dovete appunto cercare di essere direi attenti la cosa che volevo ancora raccomandarmi e poi veramente non faccio altre raccomandazioni è tenete presente che sarebbe io avevo fatto qualche sollecitazione al comune è una questione che potrebbe essere molto simpatico avere degli incontri forse a livello zonale non so bene con i docenti delle scuole perché appunto questi testi fanno toccare con mano cos'era una fonte medievale cos'era scegliendo per bene i passi cos'è la Roma del quattrocento insomma ecco può essere anche opportuno è facile confrontare adesso abbiamo la traduzione Mendoza c'è l'edizione anche dello statuto del 1363 che hai ricordato giustamente molto spesso ecco lì fare durante queste riunioni non so chiedere agli assessori ecco di fare degli incontri perché credo che sia un modo di entrare a contatto diretto con la storia di Roma quindi grazie e buon lavoro una brevissima comunicazione come dicevo prima Nunzio tanto l'ambiente è questo Nunzio Bobis Gaudium Magnum sta uscendo come si diceva allora è sotto torchio l'undicesimo volume del catalogo degli statuti dedicato a Venezia una splendida monografia di nuovo una frase alla casa massima perché anche questo l'ha fatto lei e però questo è un sottoprodotto del coronavirus perché il telelavoro ha consentito la concentrazione all'autrice alla furatrice della schedatrice del volume quindi chiamano un buon rientro alle salle e vederla fuori non va bene e va bene e l'ideale sarebbe riuscire a fare una presentazione in occasione della giornata statutaria possibile dipende dall'introduzione qui siamo arrivati proprio 23 giugno se non sarà il 23 giugno però entro l'anno sicuramente cioè il volume è pronto manca ah si si va bene questa mi pare un'idea saggia la bozza finale si si beh perché già c'è sostanzialmente indovino po' Venezia quindi ci vediamo a Venezia con l'inizio dell'estate allora grazie a tutti e a presto insomma col dischetto col dischetto devo dire grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.